Pronti via i G4 protagonisti, sempre da Molinetto di Mazzano per questo tredicesimo trofeo. Qui si sono divisi sin dai primi secondi la testa della Corsa, la Isolano e la Monte Clarenze. Thank God for mom and death for sticking two together, cause we don't know how. Godiamoci altre belle immagini con uno scorcio panoramico e fiori che esaltano a tempo di musica queste corse. Grazie a tutti. Vi facciamo notare da questo passaggio televisivo l'anticipo sull'ultima curva prima del rettilineo d'arrivo dell'ottimo corridore della Isolano, Minali Riccardo, che sta secondo noi seguendo le orme del padre. Ed eccoci quindi a darvi la classifica della categoria G4, primo Minali Riccardo, poi abbiamo Dell'Aglio Alberto, si classifica terzo Tidoni Ramona, quarto Cigala Manuel, quinto El Gabi Faisal. Per le ragazze Tidoni Ramona.